Ciao a tutti Orchetti, sono Orcu Verde. In questo video volevo informarvi riguardo l'evento dei punti fama che è stato impostato ieri sera su Rainbow Six Age. Prima di iniziare vi invito tutti quanti a seguirmi sui social, sulla pagina facebook, su instagram e sul canale telegram, trovate tutti i link nella descrizione e a lasciare un bel mi piace al video, grazie a tutti quelli che lo faranno. E iniziamo subito, ieri sera sul proprio account twitter il team di Rainbow Six Age ha pubblicato questo post, abbiamo attivato un evento bonus del 50% dei punti fama per questo weekend. Questo evento bonus è stato impostato su tutte le piattaforme di gioco, PS4, Xbox One e PC e durerà fino lunedì alle 2 di notte ora italiana. Ogni partita che giocherete ora fino alle 2 di notte di lunedì, al termine di ogni partita, partita libera, classificata, la modalità caccia ai terroristi o la nuova modalità hot break, guadagnerete il 50% in più dei punti fama rispetto al solito. Quindi mi raccomando ragazzi sfruttate questo evento bonus per ottenere più punti fama possibili e quindi niente ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un bel pollice in in su, un commento, iscrivetevi al canale, condividete il video, seguitemi sui social, sulla pagina facebook, sul canale telegram e su instagram, trovate tutti i link in descrizione e da Orku Verde è tutto, noi ci vediamo al prossimo video, bella!